che figura di merda ma stai scherzando ma sei stato stupendo ma io adoro le persone che s'assumono la responsabilità di fare le figure di merda perché qualcuno le deve fare sono dei lavoratori socialmente utili io ti darei un contributo statale guarda stefano guarda se c'hai un modo di trasformarla in una professione qui c'è il tuo uomo guarda le faccio almeno un paio al giorno allora fammene subito fammi subito la seconda ce l'hai la videocamera riprendiamo questa riprendiamo l'ho lasciata a roma e questa è la seconda